Nell'anno appena trascorso sono stati 6.214 i ricorsi presentati al TAR Campania rispetto ai 5.644 del 2021 per un incremento del 10,10%, un dato in linea con la media nazionale, ma c'è un numero che colpisce ed è quello relativo ai ricorsi in materia di servizio sanitario nazionale, più 452% e poi concorsi pubblici, appalti, istruzione e giudizi in materia di beni paesaggistici. Il presidente Vincenzo Salamone, nella sua relazione presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, mostra una fotografia reale del livello di litigiosità dei campani nei confronti della pubblica amministrazione. E in vista degli appalti per il PNRR, Salamone avverte il contenzioso è destinato ad aumentare. Ebbè sì, sia per gli aspetti riguardanti gli affidamenti, ma anche la fase precedente dell'approvazione dei progetti, quindi gli aspetti riguardanti le valutazioni ambientali sulla compatibilità di queste opere. Napoli, tra le grandi città, detiene ancora il record delle cause pendenti, una mole di contenzioso che arriva dal passato e che l'amministrazione sta cercando di smaltire, non senza difficoltà. Un settore che è fondamentale per la vita dei cittadini, per l'andamento delle gare, per realizzare le infrastrutture in un momento così importante come quello dell'attuazione del PNRR, che richiede velocità e riduzione degli ostacoli.